Condrodisplasia metafisaria con retinite pigmentosa È una condizione morbosa a carattere familiare, eredità autosomica recessiva, caratterizzata da retinite pigmentosa con rapida diminuzione del visus sino alla cecità, associata a brachidatilia e displasia metafisaria. La struttura è inferiore al decimo centile. Condrodisplasia metafisaria con retinite pigmentosa Sorella e fratello portatori entrambi della stessa anomalia digitale. Stessi casi Sorella Brachitelefalanzia e brachimetacarpia prevalente al quarto-quinto raggio digitale. Fratello Ali elieche strette di forma rettangolare Displasia metafisaria dell'anca Grà Brachitelefalanzia e caratterizzata da 오빠